Vincerà lui? Vincerà lei? Team Johnny? Team Ember? Raga, puttana merda, quando si tratta di farsi i cazzi degli altri la gente è sempre in prima linea, ho sentito parlare più di questo processo che di qualsiasi serie tv del periodo. E a proposito di serie tv vi ricordo che questo lunedì 6 giugno esce la prima puntata della mia serie animata, parzialmente animata, storie di musica. Ho finito con lo spam ma adesso dedichiamoci alla sigla del processo di Johnny Depp contro Ember Heard. Allora, il processo è andato in onda interamente, credo, per quanto ne so, sul canale Law & Crime di Youtube. E quindi giusto così per assonanza la prima cosa che mi viene da fare è mettiamo giù una linea melodica tipo Law & Order, quindi molto misteriosa. Proseguiamo su questa linea di show misteriosi e continuiamo con una chitarra che mi ricorda un po' più il mondo di CSI. Una traccia di batteria estremamente basica. E infine lo strumento più smooth di tutti, un basso ma non un basso qualsiasi. Oh, ci siamo tolti dal cazzo la musica molto prima del previsto, però se vogliamo vendere tutto questo come una serie tv, ok la musica, ma la cosa più importante è il trailer. E per quanto mi riguarda c'è solo un maestro da prendere di ispirazione per la creazione di un trailer. Ecco, sentiamo, anzi vediamo, il risultato finale. Ci sono delle prove che non puoi provare. Alpaca che non puoi comprare. Dei testimoni improponibili. E mega pinte di vino. Cani che calpestano api. Beni all'aria. Pianti senza lacrime. E con la partecipazione delle peci sul letto. E con la colonna sonora di colui che ha ispirato diverse scatole del cuore. Mark D'Am. Johnny Depp. Ember Hurt. In The Try All. E questo è tutto, ci vediamo questo lunedì per il pilota di storia di musica. Grande eh? M